ricevo una telefonata anonima dagli inferi a coronamento di una mattinata perfetta non c'è niente di meglio di una lunga corsa in taxi con una ragazza che ce l'ha con te io cerca di parlarle ma annabete si comportava come se avessi appena preso a pugni sua nonna riuscì a cavarle di bocca solo che aveva passato una primavera infestata di mostri a san francisco che era tornata al campo due volte dopo natale anche se non vuole dirmi perché e ci rimasi male visto che non sapevo nemmeno che fosse venuta a new york e che non aveva saputo niente sulla sorte di nico di angelo storia lunga notizie di luke chiesi scosse la testa sapevo che per lei era un argomento delicato annabete aveva sempre avuto un debole per luke l'ex capo della casa di ermes che ci aveva traditi unendosi alle fila di crono il re dei titani non l'avrebbe mai ammesso ma io sapevo che le piaceva ancora quando quell'inverno ci eravamo battuti contro di lui sul monte temalpais luke era riuscito a sopravvivere a una caduta da un precipizio di quasi 20 metri al momento a quanto mi risultava viaggiava ancora sulla sua nave da corciera infestata di demoni aspettando che crono il suo signore sminuzzato si ricomponesse un pezzo alla volta in un sarcofago d'oro e avesse il potere sufficiente per sfidare gli dei dell'olimpo in gergo semidivino tutto questo si definisce un problema il monte tem pullula ancora di mostri rispose annabete non ho osato avvicinarmi ma non credo che luke sia lassù altrimenti lo avrei saputo una conclusione che non mi fece sentire molto meglio e sai niente di grover è al campo rispose oggi lo vedremo ce l'ha fatta e cioè è riuscito a combinare qualcosa con la sua ricerca di pan annabete giocherellava con le perle della collana come fa sempre quando è preoccupata vedrai disse ma non mi spiegò nulla mentre attraversavamo brooklyn usai il cellulare di annabete per chiamare mamma noi mezzo sangue cerchiamo di evitare i cellulari perché trasmettere la nostra voce è come sparare un razzo di segnalazioni in cielo e i mostri sono qui venite a sbranarmi vi prego ma quella era una telefonata importante gli lasciai un messaggio in segreteria cercando di spiegare cos'era successo alla gude probabilmente non me la cavai un granché dissi che stavo bene che non doveva preoccuparsi ma che sarei rimasto al campo fino a quando le acque non si fossero calmate le chiesi anche di riferire a paul stockfish che mi dispiaceva dopo la telefonata viaggiamo in silenzio la città sparì a poco a poco finché non abbandonammo l'autostrada e ci ritrovammo nelle campagne dell'area settentrionale di long island fra orti vigneti e mercatini di prodotti freschi fissai il numero di telefono che rachel elisabeth der mi aveva scarabocchiato sulla mano sapevo che era una cosa folle ma ero tentato di chiamarla forse poteva aiutarmi a capire le parole dell'empusa campo in fiamme i miei amici prigionieri e perché kelly era esplosa in quel modo sapevo che i mostri non morivano mai davvero alla fine forse dopo settimane mesi o anni kelly sarebbe rinata dagli orrori primordiali che ribullivano negli inferi eppure i mostri non si lasciavano distruggere tanto facilmente ammesso che l'avessi veramente distrutta il taxi lasciò la route 25a attraversamo i boschi lungo la costa settentrionale finché una bassa cresta di colline non comparve alla nostra sinistra annabeth disse al tassista di accostare sulla farm road 3141 ai piedi della collina mezzo sangue l'uomo aggrottò la fronte ma qui non c'è niente signorina sicura di voler scendere sì la ringrazio annabeth gli consegnò un rotolo di banconote mortali e il tassista decise di non discutere poi ci nerpicammo su per la collina il giovane drago di guardia alpino sonnecchiava a ciambellato sotto il tronco ma quando ci avvicinammo sollevò la testa ramata e lasciò che annabeth gli grattasse il mento sputò un po di vapore dalle narici e incrociò gli occhi deliziato e i peleo disse annabeth tutto sotto controllo l'ultima volta che avevo visto il drago non era più lungo di due metri adesso era almeno il doppio ed era grosso come il tronco dell'albero sopra la sua testa sul ramo più basso del pino scintillava il vello d'oro che con la sua magia proteggeva i confini del campo dagli invasori il drago sembrava rilassato come se fosse tutto a posto sotto di noi il campo mezzo sangue aveva un aspetto pacifico i prati verdi la foresta i canti di edifici greci la grande villa di quattro piani che chiamavamo la casa grande si ergeva fiera in mezzo ai campi di fragole a nord oltre la spiaggia la baia di long island luccicava al sole eppure qualcosa non tornava c'era tensione nell'aria come se la collina trattenesse il fiato in attesa di qualcosa di brutto scendemmo valle e troviamo la sessione estiva in piena attività la maggior parte dei ragazzi del campo era arrivata il venerdì precedente così mi senti già tagliato fuori i satiri suonavano il flauto nei campi di fragole facendo crescere le piante con la magia delle selve i ragazzi prendevano lezioni di volo sui pegasi sorvolando il bosco alle fucine il fumo si levava in cielo e risuonavano i martelli dei ragazzi che si fabbricavano le armi le squadre di atena e demetra stavano gareggiando sulla pista delle vighe mentre sul laghetto delle canoe un gruppo di ragazzi a bordo di una triremi greca combatteva contro un grosso serpente marino arancione insomma era la tipica giornata al campo devo parlare con clarice annunciò annabeth la guardai come se avesse appena detto devo mangiare un grosso scarpone puzzolente perché clarice della casa di ares non era decisamente una delle mie persone preferite era un ingratta prepotente suo padre il dio della guerra voleva uccidermi e lei cercava regolarmente di ridurmi in poltiglia ma a parte questo era fantastico stiamo lavorando una cosa rispose annabeth poi ti dico a cosa di preciso annabeth lanciò un'occhiata verso la foresta dirò a chirone che sei qui continuò vorrà parlarti prima dell'udienza che udienza ma lei si allontanò lungo il sentiero senza voltarsi diretta al poligono di tiro con l'arco già borbottai anche per me è stato un piacere parlare con te mentre attraversavo il campo salutai un po dei miei amici sul vialetto della casa grande connor e travis stoll della casa di hermes stavano mettendo in moto senza la chiave il suv del campo silena boregar il capo della casa di afrodite mi salutò con la mano passando in volo sul suo pegaso cercai grover ma non lo vidi alla fine feci un giro all'arena della scherma dove vado di solito quando sono di cattivo umore l'allenamento riesce sempre a calmarmi forse perché la scherma è una delle poche cose che capisco davvero entrai nell'anfiteatro e per poco non mi venne un colpo al centro dell'arena di spalle c'era il più grosso segugio infernale che avessi mai visto e ne ho visti parecchi a 12 anni uno della taglia di un rinoceronte aveva cercato di uccidermi ma quel segugio infernale superava un carro armato non avevo idea di come fosse riuscito a oltrepassare i confini magici del campo sembrava proprio a suo agio accovacciato sulla pancia e ringhiava con soddisfazione staccando a morsi la testa di uno dei fantocci d'addestramento non mi aveva ancora notato ma sapevo che bastava facessi un minimo rumore perché percepisse la mia presenza non c'era tempo di chiamare aiuto tirai fuori vortice e tolsi il cappuccio partì all'attacco stavo per abbattere la lama sull'enorme groppa del mostro quando una spada sbucò all'improvviso e parò il colpo clang il segugio drizzò le orecchie bau io balzai indietro e attaccai distinto lo spadaccino un uomo con i capelli grigi in armatura greca però anche questo colpo senza problemi ehi esclamò tregua bau il latrato fece tremare l'arena ma quello è un segugio infernale gridai è innocua replicò l'uomo è la signora oleiri strizzai gli occhi la signora oleiri sentendo il suo nome il segugio abbaiò di nuovo mi resi conto che non era arrabbiata era festosa accostò il muso al manichino fradicio e mezzo masticato e lo spinse verso lo spadaccino brava cucciola esclamò lui con la mano libera afferrò il manichino per il colletto dell'armatura e lo lanciò di peso verso gli spogliatoi prendi il greco prendi il greco la signora oleiri balzò dietro alla preda e atterrò sul fantoccio appiattendo l'armatura poi si mise a masticare l'elmo lo spadaccino sorrise era un uomo sulla cinquantina con i capelli e la barba grigi e cotti era in forma per la sua età indossava dei pantaloni neri da montagna pieni di tasche e un pettorale di bronzo sopra la maglietta arancione del campo alla base del collo aveva un segno strano una chiazza rossiccia simile a una voglia o a un tatuaggio ma prima che riuscissi a capire cosa la fosse sposto alle bretelle dell'armatura e il segno scomparve sotto il colletto la signora oleiri è mia spiegò non potevo permetterti di infilzarla no poteva spaventarsi lei chi è giuri di non uccidermi se metto via la spada immaginò di sì rinfodero la spada e tise la mano quintus gliela strinsi era ruvida come carta vedrata persi jackson dissi mi scusi se ho ma lei come come ho fatto ad avere un segugio infernale da compagnia è una storia lunga con diversi giocattoli giganti da masticare e parecchi momenti in cui l'ho scampata bella a ogni modo sono il nuovo istruttore di scherma do una mano a chirone finché il signor d è via cercai di non fissare la signora oleiri che strappava lo scudo del manichino con il braccio e tutto scuotendolo come un frisbee aspetti il signor d è via sì beh è un periodo frenetico perfino dioniso deve dare il suo contributo è andato a trovare certi vecchi amici per assicurarsi che si schierino dalla parte giusta e probabilmente non dovrei aggiungere altro era la notizia migliore della giornata dioniso era il direttore del campo solo perché zeus voleva punirlo per averci provato con una ninfa proibita odiava i ragazzi del campo e cercava di rendere la nostra vita un inferno se lui era via l'estate prometteva bene d'altro canto però se perfino dioniso aveva dovuto alzare le chiappe e aiutare gli dei a serrare le fila contro la minaccia del titano le cose dovevano andare piuttosto male alla mia sinistra in lontananza si udì un forte bump sei casse di legno grandi quanto tavolini da picnic erano impilate poco lontano e tremavano la signora oleiri piegò la testa di lato e le raggiunse al trotto buona cucciola esclamò quintus non sono per te la distrasse con lo scudo frisbee di bronzo le casse continuavano a battere a tremare c'erano delle parole stampate sui lati ma ci misi qualche minuto a decifrarle wrench 3g fragile alto sulla base in lettere più piccole aprire con prudenza il wrench 3g declina ogni responsabilità per eventuali danni alla proprietà mutilazioni o morti strazianti e dolorose cosa c'è nelle casse chiesi una piccola sorpresa rispose quintus un'attività di addestramento per domani sera ti piacerà ok dissi anche se la parte delle morti strazianti e dolorose non mi convinceva molto quintus lanciò lo scudo di bronzo e la signora oleiri lo inseguì con passo pesante a voi giovani servono più sfide non c'erano campi come questo quando io ero ragazzo lei lei è un mezzo sangue non volevo sembrare così sorpreso ma non avevo mai visto un semidio adulto prima di allora quintus ridacchiò alcuni di noi arrivano all'età adulta sì non tutti sono al centro di terribili profezie sa della mia profezia mi hanno riferito qualcosa volevo chiedergli cosa di preciso ma proprio in quell'istante chironi arrivò al trotto persi eccoti qui probabilmente era di ritorno dalla lezione di tiro con l'arco aveva una faretra e un arco sulla schiena sopra la maglietta da centauro number one si era tagliato i ricci la barbacastana per l'estate e la sua metà inferiore che era quella di uno stallone bianco era sporca di erba e fango vedo che hai conosciuto il nostro nuovo istruttore il tono di chironi era leggero ma aveva un'espressione imbarazzata negli occhi quintus ti dispiace se prendo in prestito persi niente affatto maestro non è necessario che mi chiami maestro protestò chironi anche se sembrava un po compiaciuto vieni persi abbiamo molte cose di cui parlare lanciai un'ultima occhiata alla signora oleri che ormai aveva iniziato a masticare le gambe del fantoccio beh arrivederci dissi a quintus mentre ci allontanavamo bisbigliaia chirone quintus sembra un po misterioso suggeri lui indecifrabile sì chirone annui un mezzo sangue molto qualificato ottimo spadaccino vorrei solo capire qualunque cosa stesse per dire cambiò idea una cosa per volta persi annabeth mi ha raccontato che ha incontrato delle impuse già gli riferì del combattimento alla good e di come kelly fosse esplosa in fiamme commentò chirone solo le impuse più potenti possono fare una cosa del genere non è morta persi è soltanto fuggita non è un buon segno che i demoni come lei si stiano risvegliando che ci facevano lì chiesi aspettavano me forse chirone si accigliò è stupefacente che tu sia ancora vivo i loro poteri di mascheramento quasi ogni eroe maschio sarebbe stato divorato vittima del loro incantesimo sarebbe toccato anche a me a misi se non fosse stato per rachel chirone annui salvato da una mortale che ironia vero però siamo in debito con lei quanto alle parole dell'impusa sull'attacco al campo ne riparleremo ma per il momento vieni dobbiamo andare nel bosco grover ti vorrà lì lì dove alla sua udienza rispose chirone cupo il consiglio dei satiri anziani si riunisce per decidere la sua sorte chirone disse che dovevamo sbrigarci perciò mi feci dare un passaggio sulla sua groppa mentre galoppavamo davanti alle capanne lanciai un'occhiata alla mensa un padiglione greco a cielo aperto in cima a una bassa collina affacciata sul mare non lo vedevo dall'inverno prima e mi fece tornare in mente dei brutti ricordi chirone si immerse nel bosco le ninfe fecero capolino dagli alberi per guardarci passare grossi sagome si mossero nella penombra mostri annidati lì per sfidare i ragazzi del campo pensavo di conoscere la foresta piuttosto bene dopo tutte le partite di caccia alla bandiera delle ultime due estati ma chirone imboccò una strada che non riconobbi attraversammo un tunnel di vecchi salici superammo una piccola cascata e ci ritrovammo in una radura tappezzata di fiori selvatici un gruppo di satiri sedeva in cerchio sull'erba grover era in piedi nel mezzo al cospetto di tre satiri molto vecchi e molto grassi accomodati su dei cespugli di rose potati a forma di trono non li avevo mai visti prima ma intuì che dovevano essere il consiglio dei satiri anziani grover stava raccontando una storia si stropicciava nervoso l'urlo della maglietta agitando gli zoccoli caprini non era molto cambiato dall'inverno precedente forse perché i satiri crescono a velocità di mezzata rispetto agli umani aveva uno sfogo di acne sul viso le corna si erano un po allungate e adesso spuntavano più decise dai riccio di castani all'improvviso mi resi conto che ormai ero più alto di lui fuori dal cerchio di lato c'era anna bett insieme a clarisse e una ragazza che non conoscevo chirone mi fece sedere accanto a loro clarisse si era legata i capelli spaghetto castani con una bandana mimetica se mai fosse stato possibile sembrava perfino più massiccia di prima come se si fosse allenata parecchio con i pesi mi lanciò un'occhiataccia e borbottò pivello probabilmente era di buon umore di solito mi salutava cercando di uccidermi anna bett teneva il braccio sulle spalle dell'altra ragazza che sembrava avere pianto da poco era piccolina o meglio com'è che si dice minuta aveva i capelli sottili e ambrati e un viso grazioso da elfo indossava un chitone verde e dei sandali con i lacci e si asciugava gli occhi con un fazzoletto sta andando malissimo gemette tirando su col naso no no anna bett le diede dei colpetti sulle spalle se la caverà juniper anna bett mi guardò e mimò con le labbra le parole la ragazza di grover almeno così mi pareva ma non aveva molto senso grover aveva la ragazza poi guardai juniper e mi accorsi che aveva le orecchie leggermente appuntite gli occhi anziché essere rossi di pianto erano venati di verde il colore della clorofilla era una driade una ninfa degli alberi maestro underwood tuonò il membro del consiglio sulla destra interrompendo quello che grover stava cercando di dire non ti aspetterai mica che crediamo alle tue storie ma sileno balbettò grover è la verità il tizio del consiglio sileno si voltò verso i colleghi e borbottò qualcosa chirone li raggiunse al trotto e rimase in piedi accanto a loro ricordavo che era un membro onorario del consiglio ma non ci avevo mai riflettuto molto gli anziani non mi sembravano un granché mi ricordavano le capre dello zoo con la pancia enorme l'espressione assonnata e gli occhi velati che non vedevano un palmo dalla prima manciata di biada disponibile non capivo perché grover fosse tanto nervoso sileno si aggiustò l'apolo gialla sulla pancia e si risistemò sul trono di rose mastro underwood per sei mesi sei mesi abbiamo sentito queste scandalose dichiarazioni secondo le quali tu avresti udito parlare pan il dio delle selve ma è così impudente protestò l'anziano sulla sinistra su marone intervenne chirone porta pazienza pazienza certo sbottò marone ho fin sopra le corna di queste sciocchezze come se il dio delle selve potesse parlare a lui juniper aveva tutta l'aria di voler saltare addosso al vecchio satiro per dargli una lezione ma annabette clarisse la trattennero non è la battaglia giusta ragazzina borbottò clarisse aspetta non so cosa mi sorprese di più clarisse che tratteneva qualcuno dal provocare una rissa o il fatto che lei e annabette che si stavano stessero quasi collaborando per sei mesi continuò sileno siamo stati indulgenti con te mastro underwood ti abbiamo permesso di viaggiare ti abbiamo lasciato la licenza di cercatore abbiamo atteso che ci portassi una prova della tua dichiarazione inaudita e tu che cosa hai trovato in questi sei mesi di viaggio mi serve solo un po più di tempo supplicò grover niente intervenne l'anziano seduto nel mezzo non hai trovato niente ma l'eneo sileno lo interruppe con un gesto della mano chirone si sporse in avanti disse qualcosa ai satiri i tre consiglieri non sembrarono contenti borbottarono e discussero fra loro ma chirone aggiunse qualcos'altro e sileno sospirò annui con riluttanza mastro underwood annunciò ti daremo un'altra occasione grover si illuminò grazie un'altra settimana cosa ma signore è impossibile un'altra settimana mastro underwood e poi se non potrai provare le tue dichiarazioni vorrà dire che è giunta l'ora di dedicarti a un'altra carriera qualcosa di più adatto al tuo talento drammatico il teatro dei burattini forse o il tip tap ma signore io io non posso perdere la mia licenza di cercatore tutta la mia vita il consiglio si aggiorna proclamò sileno e adesso godiamoci il pranzo di mezzo di il vecchio satiro batte le mani e un gruppetto di ninfe sbucco dagli alberi con dei vassoi carichi di verdura frutta lattine e altre prelibatezze caprine il cerchio dei satiri si alzò e si tuffò sul cibo grover ci venne incontro con il muso lungo indossava una maglietta azzurra scolorita con il disegno di un satiro e una scritta celiai gli zoccoli ciao persi esordì talmente depresso da non sforzarsi nemmeno di stringermi la mano è andata bene eh quei vecchi caproni sbottò juniper oh grover non sanno quanto ci hai provato c'è sempre un'altra possibilità suggerì clarisse cupa no no juniper scosse la testa grover non te lo permetterò il volto di grover era cinereo io ci devo pensare ma non sappiamo nemmeno dove cercare di cosa state parlando chiesi in lontananza si udì il richiamo di una conchiglia annabeth storse la bocca ti aggiornerò più tardi persi sarà meglio tornare nelle capanne sta cominciando l'ispezione non era giusto che dovessi sottostare a un'ispezione della capanna appena arrivato al campo ma era così che funzionavano le cose ogni pomeriggio uno dei capigruppo faceva il giro con un rotolo di papiro e una lista la capanna migliore otteneva il primo turno alle docce ovvero acqua calda assicurata la peggiore si beccava il turno di pulizia della cucina dopo cena il mio problema di solito ero l'unico occupante della casa di poseidone e decisamente non sono quello che si dice un ragazzo ordinato le arpie delle pulizie arrivavano solo alla fine dell'estate perciò la mia capanna probabilmente era come l'avevo lasciata dopo le vacanze invernali le carte delle caramelle e delle patatine sul letto i pezzi dell'armatura dell'ultima partita di caccia alla bandiera sparsi ovunque corsi verso l'area comune dove le dodici case una per ogni dio dell'olimpo formavano una u attorno a un cortile centrale i ragazzi di demetra stavano spazzando la loro e facevano crescere i fiori freschi sul davanzale uno schiocco delle dita e tralci di caprifoglio fiorivano sulla soglia mentre le margherite rivestivano il tetto insomma un'ingiustizia credo che non siano mai arrivati ultimi quelli della casa di ermes si arrabattavano in giro in preda al panico ficcando la biancheria sporca sotto i letti e accusandosi l'un l'altro di qualche furtarello erano dei cialtroni ma sempre meglio di me alla casa di afrodite vedi silena boregar che usciva proprio in quell'istante controllando le voci sulla sua lista imprecai sottovoce silena era simpatica ma era una vera fanatica dell'ordine l'ispettore più severo voleva che tutto fosse grazioso e io non ho niente di grazioso mi sentivo già le braccia pesanti per tutti i piatti che mi sarebbero toccati quella sera la casa di poseidone era in fondo alla fila delle case maschili su un lato del cortile era fatta di roccia grigia rivestita di conchiglie ed era lunga e bassa come un bunker ma le finestre erano affacciate sul mare ed entrava sempre una brezza piacevole mi precipitai dentro riflettendo su una possibile azione d'emergenza tipo ficca tutto sotto il letto come i ragazzi di ermes e trovai mio fratello tyson che spazzava il pavimento persi urlò gettò la scopa e mi corse incontro se non siete mai stati presi d'assalto da un ciclope entusiasta con un grembiole a fiori e guanti di gomma ve lo dico io è una bella sveglia e il campione esclamai attento alle costole le costole riuscì a sopravvivere al suo braccio da orso mi rimese a terra con un gran sorriso il suo unico occhio castano pieno di entusiasmo aveva i denti gialli e storti più che mai e i capelli erano un groviglio di nodi sotto il grembiule indossava un paio di jeans strappati taglia xxxl e una camicia di flanella sbrindellata ma ero contentissimo di vederlo non ci incontravamo da quasi un anno da quando se fucine dei ciclopi stai bene chiese non ti hanno mangiato i mostri nemmeno un po gli mostrai che aveva ancora tutte e due le braccia e le gambe e tyson batte le mani contento evviva esclamò ora possiamo mangiare i panini al burro di arachidi e cavalcare i pesci pony possiamo combattere i mostri e vedere annabeth e fare boom con un sacco di cose mi augurai che non avesse intenzione di fare tutto in contemporanea ma gli promisi che quell'estate ci saremmo divertiti un mondo non riuscivo a fare meno di sorridere vedendolo così pieno di entusiasmo per tutto ma prima continuai dobbiamo preoccuparci dell'ispezione dovremmo poi mi guardai intorno e mi resi conto che tyson si era già dato da fare il pavimento era spazzato i letti erano fatti la fontana di acqua marina nell'angolo era stata appena strofinata e i coralli luccicavano sui davanzali delle finestre aveva perfino disposto dei vasi pieni d'acqua con anemoni di mare e strane piante fosforescenti che crescevano sul fondo dell'oceano più belle di qualsiasi bouquet che i ragazzi di demetra si fossero mai inventati tyson questo posto è fantastico lui mi sorrise raggiante hai visto i pesci pony e ho messi sul soffitto una mandria di ippocampi di bronzo in miniatura pendeva con dei fili giù dal soffitto come se nuotassero nell'aria non riuscivo a credere che tyson con quelle sue manone riuscisse a fabbricare delle cose così delicate poi lanciai un'occhiata al mio letto e vidi il mio vecchio scudo appeso alla parete lo hai aggiustato lo scudo era rimasto molto danneggiato durante l'attacco di una manticora l'inverno prima ma era tornato perfetto non c'era neanche un graffio tutte le immagini di bronzo delle mie avventure con tyson e annabeth nel mare di mostri erano levigati e scintillanti guardai tyson non sapevo come ringraziarlo poi qualcuno alle mie spalle esclamò oh misericordia silena boregar era sulla soglia con il suo rotolo dell'ispezione entrò nella capanna fece una rapida piruetta per guardarsi attorno e si voltò verso di me con le sopracciglia inarcate beh avevo i miei dubbi ma hai dato una bella ripulita persi me lo ricorderò mi strizzò l'occhio e se ne andò io e tyson trascorremmo il resto del pomeriggio a chiacchierare a farci un giro e fu fantastico dopo una mattinata passata con i demoni cheerleader andammo alla fucina ad aiutare beckendorf della casa di efesto tyson ci mostrò come aveva imparato a fabbricare armi magiche costruì un ascia da guerra a doppia lama nuova fiammante così in fretta che perfino beckendorf ne rimase impressionato mentre lavorava tyson ci raccontò dell'anno che aveva trascorso sotto il mare il suo occhio si illuminò quando descrisse le fucine dei ciclopi e il palazzo di poseidone ma ci raccontò anche quanto la situazione fosse tesa i vecchi dei del mare che avevano governato all'epoca dei titani erano sul piede di guerra contro nostro padre quando tyson era partito le battaglie infurievano per tutto l'atlantico la notizia mi rese subito ansioso perché mi sentivo in obbligo di aiutare mio padre ma tyson mi assicurò che lui ci voleva entrambi al campo ci sono un sacco di cattivi anche sopra il mare disse possiamo fare boom anche con loro dopo le fucine passamo un po di tempo al laghetto delle canoe con annabeth era realmente contenta di vedere tyson ma si capiva che era distratta continuava a lanciare occhiate verso la foresta come se stesse pensando al problema di grover con il consiglio non potevo biasimarla grover era sparito e mi dispiaceva davvero molto per lui trovare il dio pan era lo scopo di tutta la sua vita suo padre e suo zio erano entrambi morti per inseguire lo stesso sogno quell'inverno grover aveva udito una voce dentro la sua testa ti aspetto una voce che era certo appartenesse a pan ma quanto pareva la sua ricerca non lo aveva condotto da nessuna parte se il consiglio gli avesse tolto la licenza di cercatore ne sarebbe stato distrutto quale sarebbe l'altra possibilità le chiesi è quella a cui accennava clarice annabeth raccolse un sasso e lo lanciò sulla superficie del lago qualcosa che ha scovato clarice io l'ho aiutata un po questa primavera ma sarebbe pericoloso soprattutto per grover tyson ha paura del ragazzo capra mormorò mio fratello lo guardai stupito tyson aveva sconfitto toris putafuoco mostri marini e giganti cannibali perché dovresti avere paura di grover zoccoli e corna borbottò tyson nervoso e la pelliccia di capra mi fanno sollettico al naso e con questo chiudemmo la nostra conversazione su grover prima di cena io e tyson andammo nell'arena della scherma quintus fu felice di avere compagnia si rifiutò di dirmi cosa ci fosse nelle casse di legno ma mi insegnò qualche mossa cavolo sarà bravo combatteva come certa gente gioca scacchi infilando una mossa dietro l'altra senza farti capire il disegno fino all'ultimo colpo quello con cui lui vinceva e tu ti ritrovavi con la spada alla gola non male commentò però tieni la guardia troppo bassa si lanciò in un affondo che bloccai è sempre stato uno spadaccino domandai parò il mio fendente alto sono stato molte cose tentò una stoccata ma la schivai aveva la bretella dell'armatura calata su una spalla e vidi il segno che aveva sul collo una macchia viola ma non era una macchia qualsiasi aveva una forma definita un uccello con le ali piegate simile a una quaglia che cosa sul collo chiesi probabilmente era una domanda maleducata ma è colpa della mia iperattività ho la tendenza a parlare senza pensare quintus perse il ritmo colpì l'elsa della sua spada e lo disarmai lui si strofinò le dita poi spostò l'armatura in modo da nascondere il segno non era un tatuaggio realizzai era una vecchia scottatura come se l'avessero marchiato a fuoco un promemoria raccolse la spada e si sforzò di sorridere riprendiamo mi incalzò senza tregua senza lasciarmi il tempo di porre altre domande mentre noi combattevamo tyson giocava con la signora oleiri che chiamava il cagnolino si divertivano un mondo contendendosi lo scudo di bronzo e giocando a prendi il greco al tramonto stranamente quintus non aveva sudato neanche una goccia io e tyson invece eravamo fradici accaldati perciò facemmo un salto alle docce e poi ci preparamo per la cena mi sentivo bene sembrava quasi una normalissima giornata al campo arrivò la cena e tutti i ragazzi si misero in fila per case ed entrarono nel padiglione la maggior parte ignorò lo squarcio sigillato nel pavimento di marmo dell'ingresso una cicatrice irregolare lunga più di sei metri che l'estate prima non c'era ma io mi guardai bene dal calpestarla grossa crepa osservò tyson quando fumo al nostro tavolo terremoto no risposi non è stato un terremoto non sapevo se dirglielo era un segreto di cui soltanto io anna bette grover eravamo a conoscenza ma guardando nel grande occhio di tyson capì che non potevo nascondergli nulla nico di angelo spiegai abbassando la voce un ragazzino mezzo sangue che abbiamo portato al campo quest'inverno lui mi aveva chiesto di badare a sua sorella durante l'impresa ma io non ce l'ho fatta e lei è morta e adesso dà la colpa a me tyson si accigliò così ha fatto una crepa sul pavimento ci hanno attaccato degli scheletri risposi nico gli ha intimato di andarse e la terra si è spaccata e li ha inghiottiti nico mi accertai che non ci ascoltasse nessuno nico è figlio di ade tyson a noi serio il dio dei morti già così questo nico adesso non c'è più io credo ho provato a cercarlo questa primavera e anche annabeth ma niente tyson mi raccomando è un segreto ok se qualcuno scopre che è figlio di ade sarà in pericolo non lo puoi dire neanche a chirone la brutta profezia già disse tyson i titani potrebbero usarlo lo guardai a volte era facile dimenticare che grande e grosso infantile com'era tyson era anche molto sveglio sapeva che il primo figlio di uno dei tre pezzi grossi zeus poseidone e ade che avrebbe compiuto 16 anni era destinato a salvare o distruggere l'olimpo secondo la profezia la maggior parte della gente dava per scontato che si trattasse di me ma se fossi morto prima di compiere 16 anni poteva benissimo trattarsi di nico esatto confermai perciò bocca chiusa promise tyson come la crepa sul pavimento faticai ad addormentarmi quella sera rimasi disteso nel letto ad ascoltare le onde sulla spiaggia e i gufi e i mostri nel bosco temevo che una volta addormentato avrei avuto gli incubi il fatto è che per i mezzosangue i sogni non sono quasi mai soltanto sogni noi riceviamo messaggi ci arrivano scorci di cose che stanno capitando ai nostri amici o nemici e al campo i miei sogni erano sempre più frequenti e vividi così a mezzanotte era ancora sveglio con lo sguardo fisso sul materasso del letto sopra il mio quando mi accorsi di uno strano bagliore nella stanza la fontana d'acqua salata luccicava scostai le coperte e mi avvicinai con cautela dall'acqua calda saliva del vapore che temolava con i colori dell'arcobaleno anche se l'unica luce della stanza era quella della luna poi una gradevole voce femminile parlò depositare una dracma prego lanciai un'occhiata a tyson ma stava ancora russando hai il sonno leggero di un elefante narcotizzato non sapevo che pensare non avevo mai ricevuto un messaggio iride a carico del destinatario una dracma d'oro scintillava sul fondo della fontana la raccolci e la lanciai nel vapore la moneta scomparve oh iride dea dell'arcobaleno bisbigliai mostrami quello che devi mostrarmi il vapore scintillò vedi la sponda scura di un fiume volute di nebbia si muovevano lungo la superficie nera dell'acqua la spiaggia era cosparsa di impervi rocce vulcani accovacciato sulla riva intento alla cura di un falò c'era un ragazzino le fiamme ardevano con un'innaturale sfumatura azzurra poi lo vidi in faccia era nico di angelo stava lanciando dei pezzi di carta nel fuoco carte da collezione di mito magia il gioco che l'inverno prima era stato la sua ossessione nico aveva solo dieci anni o forse undici ma sembrava più grande gli si erano allungati i capelli che erano spettinate e gli arrivavano quasi sulle spalle aveva gli occhi scuri la pelle olivastra era diventata più pallida indossava dei jeans strappati e un bomber malconso di diverse taglie più grandi lasciato aperto sopra una maglietta nera l'espressione del suo viso era cupa gli occhi un po' inquieti sembrava quasi un giovane senza tetto aspettai che mi vedesse senza dubbio si sarebbe infuriato e avrebbe cominciato ad accusarmi della morte di sua sorella ma non sembrò notarmi rimase zitto e non osai muovermi se non era stato lui a mandare il messaggio chi l'aveva fatto nicolò non c'ho un'altra carta tra le fiamme azzurre inutili borbottò non riesco a credere che mi piacesse questa roba un gioco infantile mio signore concordò un'altra voce sembrava provenire da vicino al fuoco ma non riuscivo a scorgere chi stesse parlando nico scrutò il paesaggio dall'altra parte del fiume sulla sponda opposta c'era una spiaggia nera avvolta nella foschia riconobbi luogo erano gli inferi nico era accampato sulla riva dell'ostige ho fallito mormorò riportarla indietro è impossibile l'altra voce rimase zitta nico si rivolse a lei dico bene parla qualcosa scintillò pensai che fosse solo il riflesso del fuoco poi mi resi conto che era la sagoma di un uomo un alito di fumo azzurro un'ombra se lo guardavi direttamente non c'era ma se ci provavi con la coda dell'occhio riuscivi a distinguerne la forma un fantasma nessuno ci è mai riuscito rispose quello ma potrebbe esserci un modo dimmelo ordinò nico con un luccichio feroce negli occhi uno scambio disse il fantasma un'anima in cambio di un'altra ma io mi sono già offerto non la tua precisò il fantasma non puoi offrire a tuo padre un'anima che raccoglierebbe in ogni caso alla fine e lui non vorrà certo che tu muoia mi riferisco a un'anima che avrebbe già dovuto trovarsi nel regno dei morti l'anima di qualcuno che ha ingannato la morte nico si scuri in viso di nuovo stai parlando di omicidio sto parlando di giustizia replicò il fantasma di vendetta vendetta e giustizia non sono la stessa cosa il fantasma sbottò in una risata secca la penserai in modo diverso da grande imparerai nico fissò le fiamme perché non posso almeno evocarla voglio parlare con lei lei mi aiuterebbe ti aiuterò io promise il fantasma non ti ho forse già salvato molte altre volte non ti ho guidato nel labirinto non ti ho insegnato a usare i tuoi poteri vuoi vendicare tua sorella oppure no non mi piaceva il tono di voce di quel fantasma mi ricordava un ragazzo di una mia vecchia scuola un bullo che convinceva gli altri a fare delle stupidaggini come rubare gli strumenti del laboratorio o sfregiare le macchine degli insegnanti lui non finiva mai nei guai però per colpa sua venivano sospesi un sacco di ragazzi nico si scostò dal fuoco in modo che il fantasma non potesse vederlo ma io ci riuscivo benissimo una lacrima gli rigava il viso e vabbè hai un piano oh sì rispose il fantasma molto soddisfatto abbiamo molte vie oscure da percorrere dobbiamo cominciare l'immagine tremolò nico scomparve la voce femminile che proveniva dal vapore annunciò un'altra dracma per i prossimi cinque minuti prego non c'erano altre monete nella fontana feci per infilarmi le mani in tasca ma ero in pigiama corsi al comodino alla ricerca di spiccioli ma il messaggio iride si spense e la stanza tornò buia la connessione si era interrotta rimasi fermo lì in mezzo alla capanna ad ascoltare il gorgoglio della fontana e la risacca dell'oceano nico era vivo stava cercando di riportare indietro sua sorella dal regno di morti e io avevo la sensazione di sapere quale anima avesse intenzione di scambiare l'anima di qualcuno che aveva ingannato la morte vendetta nico di angelo sarebbe venuto a cercarmi